Ma sono innamorata di te, sono pazze di te, sono pazze, stai l'orendo e ti fai più vicino, ma vado prima tu, e allora sì, abbraccia me. Bravissima Antonella al lavoro, adesso arriva anche Rebecca Staffelli, fanno un lavoro similare in questi giorni, ma a noi quello che interessa oggi in realtà è Greta Rossetti, si è lasciata con Sergio Dottavi, benissimo, ma come sempre la cosa ha una certa eco sui social, Greta dice che si rammarica perché viene insultata, aggredita da giorni, e con gente che le dice anche per salvare la relazione, dovevi andare a Bali o quant'altro, senza sapere qual è la sua situazione di salute anche personale, perché sappiamo che Greta ha dei problemi particolari anche di endometriosi che richiedono una certa cure. Vi lascio, ciao! Grazie